Ciao a tutti e bentornati a questo che probabilmente sarà l'ultimo video di quest'anno. Allora, prima di iniziare vi avviso subito che il contenuto del video di oggi non penso che si possa classificare come divulgazione. Questo semplicemente perché i contenuti saranno rivolti a chi ha già delle basi per quanto riguarda alcuni argomenti. In particolare, sarà richiesta una certa padronanza con il concetto di derivata e con la descrizione matematica delle onde. Tuttavia, io vi consiglio comunque, se volete, di seguire il video anche se non avete delle basi all'interno di questi argomenti che vi ho elencato. Questo semplicemente perché sono convinto che comunque dare un'occhiata ogni tanto anche al punto di vista tecnico degli argomenti scientifici può essere molto utile e anche bello, perché no? Detto ciò, specifichiamo un pochino meglio che cosa è richiesto sapere per capire poi i ragionamenti che farò successivamente. Allora, per quanto riguarda le derivate, in particolare è bene sapere che esiste una funzione che è la funzione esponenziale che indichiamo con e alla x e che questa funzione ha la caratteristica molto interessante e utile che la sua derivata è uguale a se stessa. Quindi, se io effettuo la derivata di e alla x, ottengo ancora e alla x. Naturalmente, conoscendo anche le regole di derivazione delle funzioni composte, possiamo dedurre che la derivata, ad esempio, di e elevato alla 3x è uguale a 3 per e alla 3x. Quindi, in pratica, l'esponenziale rimane sempre uguale, però eventualmente derivando si può aggiungere davanti all'esponenziale stesso la stessa costante che moltiplica la x all'interno della funzione. Il secondo ambito con cui è consigliabile avere una certa familiarità è quello delle onde. In particolare, è consigliabile sapere che un'onda che abbia una frequenza che indichiamo con la lettera greca ni, oppure nu, e con lunghezza d'onda che indichiamo con lambda, si può rappresentare in questo modo, cioè come e elevato alla 2πi per, aperta parentesi, x fratto lambda meno nu per t. Questo è semplicemente un modo di rappresentare un'onda che si propaga nel tempo e nello spazio. In particolare, quel pezzo 2πi per x fratto lambda meno nu per t si chiama la fase dell'onda e ci indica come, avanzando o nel tempo o nello spazio, l'onda sia più alta o più bassa nel determinato punto che stiamo trattando. A questo punto, finalmente, possiamo introdurre un po' di fisica. Bisogna tornare indietro nel XIX secolo, quando ancora c'erano vari dubbi che riguardavano in particolare un ambito che si chiama la radiazione di corpo nero. Adesso non starò ad entrare troppo nei dettagli, però c'erano alcuni problemi dovuti al fatto che un ipotetico corpo, idealmente nero, avrebbe dovuto produrre un'energia infinita, se si fosse trovato a una temperatura finita. E questa è la cosiddetta catastrofe ultravioletta. Adesso, saltando tutta la parte di cui cerchiamo di capire meglio come mai questo abbia risolto il problema del corpo nero, sappiamo comunque che Max Planck ipotizzò che l'energia del corpo nero potesse aumentare solo di valori discreti, valori dati proprio da una costante moltiplicata per la frequenza della radiazione. Questa costante venne da lui misurata proprio sperimentalmente, e lo scienziato determinò proprio che una radiazione può aumentare l'energia di un corpo che viene colpito da tale radiazione solo appunto di valori discreti, dati da h per nu, dove nu è proprio la frequenza della luce che colpisce il corpo. Quest'ipotesi inoltre fu ripresa anche da Albert Einstein, che ipotizzò che la radiazione fosse costituita da tanti piccoli pacchetti di energia, detti fotoni, quindi non solo che la materia potesse assorbire l'energia in pacchetti, ma che la radiazione stessa, quindi la luce stessa in particolare, fosse costituita da pacchettini, pacchettini che poi successivamente verranno chiamati fotoni. Ecco, questi fotoni hanno ognuno un'energia data proprio dalla frequenza moltiplicata per la nostra costante di Planck. Scriviamo quindi semplicemente che E uguale ad h per nu, dove E è proprio l'energia del singolo fotone. Successivamente ci fu invece De Broglie che suppose una cosa ancora più particolare e ancora più strana, se vogliamo. Cioè lui ipotizzò che anche la materia avesse una quantità di energia data dalla stessa relazione. Questo però necessitava che anche la materia possedesse una certa frequenza. Ma allora che cosa consegue? Consegue che anche la materia ha una sua lunghezza d'onda, che si può calcolare facilmente. Infatti noi abbiamo che se partiamo dalla relazione che vale per il fotone, cioè E uguale a h per nu, allora abbiamo naturalmente che nu è uguale a E fratto h. A questo punto però noi sappiamo anche che, dato che la velocità della luce è data sempre dalla frequenza della luce per la lunghezza d'onda della luce, abbiamo che C è uguale a lambda per nu. Ma questo significa che, se invertiamo la formula, più o meno come abbiamo fatto prima, allora nu è uguale a C fratto lambda. Ma adesso noi prendiamo questo C fratto lambda e lo sostituiamo all'interno della formula di prima, cioè nu è uguale a E fratto h. A questo punto otteniamo che C fratto lambda è uguale a E fratto h, e quindi che lambda è uguale a E fratto C per h. Ma allora otteniamo facilmente che E fratto C è uguale ad h fratto lambda. Ma E fratto C non è altro che la quantità di moto del fotone. Effettivamente ci si accorse già nel XIX secolo che il fotone stesso trasportava una quantità di moto, nonostante non avesse una massa. Questo significa che i fotoni sono in grado di trasmettere quantità di moto alla materia. Lo so che può sembrare un po' strano, in effetti spesso trovo dei commenti del tipo ma come fa il fotone ad avere una quantità di moto se non ha una massa? Beh, si tratta di un fatto che si verifica molto facilmente all'interno dell'elettrodinamica classica. Un fotone possiede anche lui una quantità di moto che naturalmente non sarà dato da m per v, come per una particella dotata di massa, ma è data proprio da E fratto C, cioè dalla sua energia diviso la velocità della luce stessa. In effetti abbiamo anche la cosiddetta pressione di radiazione, di cui vi lascio qui sotto un link in descrizione, che ci dice proprio che noi possiamo avere un effetto meccanico sulla materia dovuto alla pressione esercitata da una radiazione elettromagnetica. Comunque andando avanti nel nostro ragionamento abbiamo ottenuto finalmente che la lunghezza d'onda del fotone è data da H, quindi dalla costante di Planck, fratto la quantità di moto del fotone. A questo punto finalmente, ed è così che fece Debroglie, noi possiamo estendere una cosa valida solo per il fotone a un qualsiasi corpo dotato di massa, perché un corpo dotato di massa ha una quantità di moto. Quindi in pratica la nostra ipotesi adesso è, beh, supponiamo che se il fotone ha una certa lunghezza d'onda λ, allora anche una particella di materia avrà una lunghezza d'onda data dalla stessa relazione che valeva per il fotone. La differenza è che quella P al denominatore, che per il fotone rappresenta la quantità di moto del fotone, cioè E fratto C, per la nostra particella dotata di massa sarà data dal prodotto M per V, dove M è la massa della particella. Tuttavia noi adesso abbiamo un modo di parlare di lunghezza d'onda delle particelle. Ovviamente noi non sappiamo ancora che cosa sia questa lunghezza d'onda e ci vorranno decenni poi per andare a vedere bene che abbiamo uno spazio di Hilbert e che abbiamo appunto degli oggetti che sono le funzioni d'onda, che rappresentano una densità di probabilità, tutte cose di cui abbiamo parlato nella serie divulgativa di meccanica quantistica. Vi lascio anche quella in descrizione. Comunque l'idea è che noi adesso, grazie a questo ragionamento, abbiamo esteso il concetto di lunghezza d'onda dai fotoni, che naturalmente noi sappiamo che possedevano una lunghezza d'onda, che era la stessa della radiazione che era costituita da quei fotoni, a delle particelle dotate di massa. Naturalmente se noi utilizziamo questa relazione per calcolarci la lunghezza d'onda di un corpo esteso, come può essere un pallone da basket, troviamo un valore così piccolo che ci rendiamo subito conto che tutte queste cose hanno senso solo quando parliamo di corpi molto molto piccoli, quindi con una massa molto molto piccola. Quindi da un punto di vista macroscopico, questa è una lunghezza d'onda che è trascurabile e questo ci dice anche che di fatto abbiamo che tutto quest'argomento diventa trascurabile quando parliamo di oggetti macroscopici. Comunque adesso, per non divagare troppo, ritorniamo alla nostra importante relazione. Abbiamo scoperto che λ è uguale ad h fratto p per le particelle dotate di massa, ma a questo punto noi possiamo prendere la nostra e elevato alla 2πi per x fratto λ meno ν per t e tenere conto del fatto che quella λ non è altro che h fratto p. Quindi abbiamo semplicemente che la nostra funzione d'onda si può scrivere come e elevato alla i per 2π per x moltiplicato per p fratto h meno ν per t. Però noi sappiamo che quella ν si può scrivere semplicemente come e fratto h e l'abbiamo già visto prima. Quindi diventerà e elevato alla i per 2π per x per p fratto h meno e fratto h per t. A questo punto tiriamo fuori quella h dall'argomento dell'esponenziale e la mettiamo fuori dalla parentesi e quello che otteniamo è e elevato alla i per 2π fratto h per xp meno e per t. Come vedete siamo partiti da un'onda che valeva solo per corpi senza massa, in particolare era un'onda elettromagnetica pura perché avevamo una frequenza semplicemente e una lunghezza d'onda e siamo arrivati a un'equazione in cui compare una quantità di moto e un'energia. E la cosa interessante è che le particelle dotate di massa hanno una quantità di moto e hanno anche un'energia, in particolare hanno un'energia cinetica data da un mezzo m per v al quadrato. Quindi questa è un'onda che però adesso possiamo immaginarci che descriva anche particelle dotate di massa, come vi ho già detto prima. Abbiamo quindi che quest'onda effettivamente è un'onda di materia, cioè è un'onda che rappresenta un qualcosa che ha una massa. L'ultimo passo che facciamo per ottenere la nostra onda è chiamare il rapporto tra h e 2π greco semplicemente con la lettera h tagliato, questo per toglierci quel 2π greco poi dai nostri passaggi successivi. E adesso che abbiamo finalmente quest'onda possiamo immaginarci quale sia un'equazione che ha come soluzione quest'onda, cioè dobbiamo provare a impostare una certa equazione che contenga delle derivate, in particolare si parla appunto di equazione differenziale, che abbia come soluzione questa onda qui, questa onda di materia qui. E per farlo proviamo innanzitutto a derivare rispetto al tempo, quindi alla variabile t. Che cosa succede se derivo rispetto alla variabile t? Beh, quello che ottengo è che l'esponenziale rimane uguale a se stesso. Davanti però devo inserire tutte le costanti che moltiplicano la t. In particolare ho un meno, ho una e, ho una i e ho un fratto h. Ora proviamo a prendere la nostra stessa onda di partenza e derivarla invece rispetto alla x. Che cosa succede? Succede che otteniamo sempre l'esponenziale invariato, davanti però dobbiamo mettere la p per la i diviso h tagliato. Adesso il problema è che noi abbiamo ottenuto due cose che sono simili ma sono ancora troppo diverse tra di loro. Come mai? Il motivo sono le due costanti che sono comparse davanti all'esponenziale, perché da una parte abbiamo un'energia, dall'altra abbiamo una quantità di moto. Adesso però noi ci accorgiamo che, dato che la quantità di moto è data dal prodotto m per v e che l'energia invece è data da un mezzo m per v al quadrato, noi possiamo scrivere l'energia come il rapporto fra p al quadrato, quindi fra la quantità di moto al quadrato, e due volte la massa. Potete provare anche voi a dimostrare questa cosa, è molto semplice. Ecco, a questo punto quindi ci viene il sospetto che noi dovremmo avere un p al quadrato nella parte in cui c'era la derivata rispetto alla x, non solo una p. Come facciamo adesso ad ottenere una p al quadrato? Beh, deriviamo di nuovo rispetto alla x, quindi facciamo una cosiddetta derivata seconda rispetto alla x. Quindi adesso rideriviamo quel pezzo che abbiamo ottenuto e quello che otteniamo è che viene una i al quadrato, che fa meno 1, quindi mettiamo semplicemente un meno, p al quadrato, perché c'era la p di prima moltiplicata per una nuova p, diviso h tagliato al quadrato e poi l'esponenziale che rimane invariato. A questo punto vedete che abbiamo due cose molto simili. Quindi l'ultimo passo è quello di scrivere l'energia direttamente come p al quadrato diviso 2m, così abbiamo da una parte appunto p al quadrato diviso 2m per i fratto h tagliato per l'esponenziale. Dall'altra parte abbiamo p al quadrato diviso h tagliato al quadrato per l'esponenziale. Adesso, che cosa avremmo dovuto fare noi per ottenere due risultati proprio identici, con due costanti identiche davanti. Beh, avremmo dovuto invece che derivare semplicemente per la t, moltiplicare prima per il prodotto di i per h tagliato. Mentre per quanto riguarda la parte derivata due volte per la x, avremmo dovuto semplicemente all'inizio mettere un meno e un h tagliato al quadrato diviso due volte m. Se avessimo fatto così avremmo ottenuto lo stesso identico risultato alla fine, cioè lo stesso esponenziale. Questo significa che quel numero moltiplicato per la derivata rispetto al tempo e quell'altro numero moltiplicato per la derivata seconda rispetto alla x sono la stessa cosa, quindi possiamo uguagliarli tra di loro. E, pam, magicamente abbiamo l'equazione di Schrödinger. Questa è l'equazione di Schrödinger cosiddetta libera, in cui non abbiamo nessun potenziale esterno. Direi che basta così, cioè dovremmo ritenerci più che soddisfatti di aver ottenuto un'equazione del genere, in modo, diciamo, abbastanza semplice, con strumenti che comunque sono a disposizione di qualsiasi studente che abbia fatto un liceo, ad esempio. Comunque a questo punto direi che è il caso di fermarci. Mi rendo conto che si sia trattato di un video un po' più pesante del solito, però spero che, avendo visto bene i passaggi proprio da un punto di vista visivo delle formule, almeno abbiate capito il ragionamento. Si tratta fondamentalmente di passaggi matematici, però introdotti dal fatto che anche la materia ha una sua lunghezza d'onda. Poi, come vi ho già detto, ci vorranno tanti anni a capire meglio cosa sia sta lunghezza d'onda, a capire proprio da un punto di vista anche concettuale di che cosa stiamo parlando. La cosa interessante, però, è stata che Schrödinger, dopo aver trovato questa equazione, l'ha subito utilizzata e si è accorto che poteva spiegare un sacco di cose, ad esempio i vari livelli energetici dell'elettrone che si trova all'interno di un atomo di idrogeno. Quindi, nonostante questa equazione sia venuta fuori in modo un po' misterioso, effettuando dei passaggi che sembravano quasi un po' così buttati lì a caso, in realtà è stata ottenuta una relazione che immediatamente dà dei risultati molto utili che permettono di analizzare la fisica da un punto di vista molto fondamentale. E a quei tempi questo ha proprio rivoluzionato completamente il modo di vedere le cose. Io vi ringrazio comunque per la vostra attenzione, chiedo scusa se il video è risultato un pochino più pesante del solito, ma come vi ho già detto, questa di fatto non è divulgazione, è praticamente didattica. Però è una didattica resa, spero, un pochino più leggera, dal fatto che comunque i discorsi sono basati su ragionamenti più semplici rispetto a quelli che di fatto si vedono all'interno dell'università quando viene introdotta questa equazione. Vi ricordo comunque di seguirmi anche su Instagram, dato che lì sarò attivo anche nei prossimi giorni, farò anche diverse live, quindi mi raccomando, seguitemi anche lì. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao ciao!